Ehi là, bentornati su Broken Stories di Flavio Troisi, scrittore e ghostwriter. Ho letto di recente che un'università americana, se non sbaglio a Chicago, avrebbe pubblicato una ricerca, i risultati di una ricerca in base alla quale gli appassionati di storie horrore, apocalittiche, post-apocalittiche sarebbero stati in qualche modo meglio predisposti e più preparati emotivamente ad affrontare il duro periodo della quarantena e la crisi sanitaria da Covid-19. Ebbene, non so se questa sia una notizia fondata, però non mi stupirei, non mi stupisco di questo risultato, assolutamente. Perché? Perché da sempre chi legge o comunque o guarda o segue storie ad altissimo contenuto drammatico e magari anche contenuto apocalittico, in qualche modo ha già vissuto in maniera vicaria, in maniera immaginaria, circostanze estremamente drammatiche in cui il tessuto sociale si sfalda, in cui la violenza e la paura hanno la meglio. E questo con tantissimi, tantissimi romanzi, tantissime opere cinematografiche, straordinarie, dalla migliore, diciamo, da quelle straordinarie a quelle di infima qualità. Oggi mi piacerebbe presentarvi due libri, o meglio, due saghe. La prima è questa, la parabola del seminatore, che poi si conclude nella parabola dei talenti di Octavia Butler, che nel 2000 con questo romanzo vinse il premio Nebula. Octavia Butler era una scrittrice afroamericana, direi capace di produrre una fantascienza estremamente umana, con personaggi tridimensionali, appassionanti, veri, autentici. Io ricordo benissimo di aver letto la parabola del seminatore nel 2000, non ricordo bene tutti gli elementi, naturalmente, dell'intreccio, ma ricordo che la sua protagonista, questa ragazza, diciamo dalle idee molto chiare e dal potere che si chiama iper-empatia, cioè capacità di sentire in maniera intensa le emozioni degli altri, sia piacevoli che no, ricordo che mi aveva lasciato un'impressione indelebile. Ed è così, perché non tanto la storia, ma le emozioni mi hanno, come dire, lasciato un solcom mnemonico molto forte. Questo libro ci descrive un'America che nel 2024 somiglia terribilmente a quella del 2020. Lei scrisse, Octavia Butler, questa storia, se non sbaglio, alla fine degli anni 80, se non erro nel 1988, fu pubblicata il primo volume nel 1993 e in Italia arrivò appunto nel 2000. Ci racconta un'America in cui i neri sono ancora molto discriminati, la protagonista vive in un enclave circondato da mura, all'intorno si scatenano rivolte, incendi e la violenza serpeggia ovunque, c'è molta povertà, una crisi economica terribile, epidemie e un presidente decisamente conservatore, stolido, stupido, che favorisce soltanto le grandi imprese e i ricchi. Non so se vi ricorda forse qualcosina. Nel 1988 la signora Octavia Butler ci descrisse questa America e mise in bocca alla sua protagonista queste parole. Permettetemi di leggerle. Possiamo prepararci, questo è quel che c'è da fare adesso, tenerci pronti per ciò che succederà, pronti a sopravvivere, a continuare a vivere dopo, concentrarci su come sopravvivere, così che possiamo fare qualcosa di più che restare in balia di gente pazza e disperata, di teppisti e leader che non sanno quello che fanno. E ancora, anche adesso le cose stanno cambiando, gli adulti non sono stati spazzati via dalla peste, così sono ancora attaccati al passato e aspettano il ritorno dei bei tempi andati. Ma le cose sono cambiate molto e cambieranno ancora, le cose cambiano sempre. Questo è solo un grande balzo in avanti, al posto dei passettini graduali che sono più facili da accettare. La gente ha cambiato il clima del mondo e ora si aspetta che il passato ritorni. Non so, vi rendete conto? Io sono impressionato da queste parole, davvero impressionato. Soprattutto dove dice, gli adulti non sono stati spazzati via dalla peste. Così sono ancora attaccati al passato e aspettano il ritorno dei bei tempi impiantati. E a me sembra che siamo esattamente in questa situazione. Naturalmente mi auguro che non sia la nostra realtà paragonabile a quella così cupa che Octavia Butler ha tratteggiato, però lo vediamo anche noi. Abbiamo vissuto un periodo di, e non siamo ancora fuori, assolutamente, da un periodo di pandemia globale. E tutto quello che vogliamo, o meglio, tutto quello che tanti vogliono, è semplicemente che si torni alla vita di prima, esattamente come prima. Tanto è vero che abbiamo un sacco di gente che neanche ci vuole credere che esista questo virus. La incredulità degli adulti di fronte a un cambiamento sconvolgente è proprio ciò che sta descrivendo Octavia Butler in questo romanzo, che sì è apocalittico, ma per fortuna poi ci restituisce anche un bel po' di speranza, sia nel primo che nel secondo volume. Invece ecco abbiamo qui N.K. Jemisin, un'altra scrittrice afroamericana, che ci parla di un mondo, beh, sull'oro del collasso, anche questo, un'apocalisse che non è più evitabile, e anche in questo caso abbiamo delle protagoniste, delle donne di colore, nelle cui mani giace il destino del mondo. Anche in questo caso dotate di poteri, diciamo di superpoteri, e quindi in questo caso non si tratta di imperempatia, ma di orogenia, cioè la capacità di attingere al potere, diciamo del sottosuolo, del magma, dei continenti stessi. Quindi molte analogie. E anche in questo caso abbiamo un libro che fa parte di una saga, una trilogia, che ha vinto con tutti e tre i libri, tutti e tre i libri che sono aggiudicati il premio Hugo, cioè il principale premio della fantascienza internazionale. Stiamo parlando quindi di opere che ci raccontano la fine del mondo. E io non credo che sia un caso che questi libri, come dire, abbiano in sé questo potere di abituarci a pensare al di fuori degli schemi abituali, a pensare che, ragazzi, il peggio può succedere. Non possiamo negare l'ipotesi che un virus letale sia giri fra di noi, che il nostro stile di vita debba in qualche modo cambiare, che il clima sia prossimo al collasso e che quindi il nostro stile di vita debba assolutamente essere modificato e in tempi rapidi, tempi rapidissimi. Questi libri ci dicono semplicemente, ragazzo, abituati a pensare in modo diverso e abituati anche a provare delle emozioni collegate a questi cambiamenti travolgenti. Perché quando avverrà tu, che ti sei allenato emotivamente tante volte con queste letture, ma anche se volete con alcuni film, tu potresti essere uno di quelli che non farà troppe cazzate. Perché in giro io di gente che fa cazzate, invece ne vedo tante. Ne vedo tanta. Vedo tante persone che rifiutano anche solo l'idea che sia necessario indossare una mascherina, che sia necessario anche il distanziamento sociale. Persone che rifiutano l'idea di un mutamento repentino nel loro stile di vita, perché associano a questo cambiamento una tragedia forse irrimediabile. Beh, invece no, non è vero. Questi libri, queste letture, anche apocalittiche, ci spiegano e ci, come dire, ci trasmettono il messaggio che si può cambiare e che non è sempre per il peggio. Certo, il peggio forse bisogna attraversarlo. Una lettura interessante. Questa lo trovate in edicola, è uscito questo mese. Io non vi posso, non lo voglio neanche recensire. Insomma, è un libro che ha vinto dei premi importantissimi, ha vinto un premio importantissimo. È considerato uno dei migliori libri del 2019, quindi cosa vi devo dire io? Che mi piace, non mi piace, sarebbe veramente inutile. Vi dico soltanto che lo trovate in edicola, a 9,90€. Dategli un'occhiata. La quinta stagione. È un po' fantascienza, un po' fantasy, interessante. Comunque, di sicuro, hai requisiti per essere considerata una broken stories. C'è un forte pathos, ci sono protagonisti abbastanza infranti anche loro. E soprattutto le pagine scorrono, scorrono bene. Quindi, buona lettura. Se poi riuscite a procurarvi anche questo, questo secondo me è anche meglio. Tanti saluti da Broca Stories di Flavio Troisi, scrittore e ghostwriter. Alla prossima. Ciao. Ciao.